Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale Oggi siamo in compagnia di un secco di persone C'è anche il mio socio Luca ovviamente Ciao Ci sono le tre F C'è un Aglieri, proprio lui E c'è un Andrea Baglio che è su a lavarsi la faccia Ma sta arrivando Vi spiego molto brevemente in cosa consiste questa challenge Una persona parte dicendo una parola Ad esempio, cane La persona che viene dopo deve dire una parola Che abbia un senso logico con la parola detta prima Quindi, cane Esatto, e si va avanti così Chi è la persona che perde? E' la persona che fa passare più di due secondi dalla risposta Quindi non risponde Che risponde sbagliato O ripete una parola che è già stata detta Quando la persona sbaglia Esce dal gioco E soprattutto paga la penitenza Vi faccio vedere di cosa consiste la penitenza La poltrona della penitenza Questa qui E mangiarsi Questo mappazzone Che è creato Con le cose che state per vedere Come primo ingrediente Sugo Sugo crudo Vai Mettiamo una nota a bevanda Un cucchiaino di marmellata alle ciliegie Un po' di olio Formaggio Un pochino di insalata No, mi vien da vomitare Mi vien da vomitare, raga No, è troppo No, no, voi siete pazzi Io vomito No, 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 non lo faccio Luca, Luca, lo faccio Io vomito Vomito nella ciotola Troppo tutta la ciotola 3, 2, 1, via Cane Pippo Pluto Cartone Latte Lattosio Sozio Sì, no, no Aspetta Ciao 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 Ci siamo un uomo appazzone della mia vita che mangio È buono Vabbè dai, pensiamo peggio onestamente Questa è una cosa che lasci dire a me Che l'ho mangiato Ah, perché so che mangi un sacco di merda Pucca Da coltivare Era un regista rispettato Avevi Vai Aglie Senza messaggi Donna mia Scusate, non riuscivo a mangiarlo Parti da mucca Ok Pazza Ehm, malattia Ehm, uomo Ehm, essere umano Donna Intimo Ehm, mutande Ehm, fene Palle Testicoli Pelosi Ehm, pelo Donna GATER 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 Schifo raga Proprio Lui Lui Con la minestrina, no? Esatto Con la sorbata Proprio con la sorbata Che si faceva una volta le nonne Quando bevevano No, giù, eh Giù E' giù, giù E' giù Adooo Animale Cane Gatto Ehm Wey, ti aspetto un attimo Adesso Ciaaaaaa 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 Adooo Una cosa lurida Te l'ho racconciato Creatore Mo' danno Ehm Mu' giù 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 Porco due Nooo Aaaaaa Eeeh 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 Taglio! Netto! Bonetti! Iscritti! Visualizzazioni! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Senti nel cuore! Ciao! 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 Per una sfida mi faccio due cucchiai? Fino sei un eroe! Mamma mia! Desso gradimento? Aspetta, prendo anche la marmellata No, no, non lo fare Il filo è una roccia, non sente niente Oddio Dopo tutti i kebab Basta, basta Siamo giunti alla finale Occhi, verdi, blu Rossi, pastelli Pennarelli, portapenne Astuccio, scuola Ripetizione Matematica Geometria Righello Stecca E se spiedi Ciao Ciao Beh, non è male dai Ci sento ancora il I polpastrelli di filo Io Io direi che per Parco Ondicio Anche Baglio potrebbe assaggiare, giusto? A me è un assaggio Ragazzi, chiudiamo così questa challenge Con un eroico Andrea Baglio Che assaggia Vai, vai col pezzo di marmellata Ragazzi, sono per voi No, no, la folla Che schifo, bastardi Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un mi piace Condividetelo su Facebook E soprattutto Everyone Che